Salve a tutti! Eccoci in una puntata di questa serie su Tennis World Tour chiamata le palle della Meloni. Le nostro Giorgia Meloni qua in versione tennista ora dobbiamo decidere insomma in quale torneo farlo partecipare e io penso aver già deciso parteciperà a questo Dragon's Trophy trofeo dei dragoni la nostra dragonessa in Cina e come prima avversaria affronterà Elena Kiba va bene abbiamo il match andiamo subito dunque perché i match qua saranno parecchio lunghi ricordiamo che in questo caso avete visto insomma regole ci sono ogni match fatto a tre set a ogni set si arriva a tre game, game normali 15, 30, 40 ecc. Funziona poi come sempre per ogni set in caso di due pari si arriva a quattro in caso di tre pari si va al tie break. Comunque andiamo osservate bene questo match. Andiamo andiamo con questo match. Allora la nostra Giorgia Meloni incontro Elena Kiba. Elena Kiba. Elena è tipicamente giapponese d'altronde. Elena sono quei nomi proprio giapponesi giapponesi. Comunque andiamo. Andiamo com'è. Cerca di... è brutta. Niente. No. Fuori. Fuori. La Kiba manda fuori la palla. 0,15. Prova in attenzione. Prova a incrociare la Giorgia. Incrociare l'altro lato benissimo. Si apre il campo e chiude il punto. 0,30. Bene la Giorgia. Bene la Giorgia. Bene la nostra Giorgia. Avanti. Buona ricezione. La nostra Giorgia. Ancora. Fuori. Fuori. Manda fuori la palla. La Kiba. Tre palle set. Palle break. Oh. Un brutto questo. Per fortuna la sbaglia la Kiba. Bene così. 1,0. Subito comincia con un break la nostra Giorgia. Andiamo però a mantenerlo. Porca miseria. Già cominciamo. Ok. Bene. Buono. Buono incrocio la Giorgia. Prova a incrociare l'altro lato. A riapirsi lo spazio. Per poi effettuare il punto. Bene così. 15,0. Buona. Buono servizio la Giorgia. Stavolta. La potenza. Buono incrocio. Prova a incrociare l'altro lato. Per aprirsi il campo. Ehm. Attenzione. Ma la Kiba stavolta non molla. Stavolta. Ehm. Grandissima palla. Però. Ehm. Riesce a prenderla Kiba. Ma la nostra Giorgia va a segno. 30,0. Signori. Bene così. Ah. Bene va. Qua. Ancora. La Giorgia va a incrociare. La Giorgia va a incrociare l'altro lato. Non è stata riuscita benissimo. Ehm. Vincerà a Kiba. La incrocia bene. 30,15. Qua. La nostra Giorgia si è persa un pochetto. Prova a incrociare. Giorgia la Kiba sbaglia. 40,15. Va fuori. Va in corridoio. Il rovescio a due mani e la Kiba. Il vizio potente la Giorgia ha segno. Ma segno. In senso. È in campo. Prova. Giorgia a chiudere. Da un lato. La Kiba. Che sbaglia. Ancora una volta il dritto. 2,0. Bene così. Si mette bene questo set per la nostra Giorgia. Però tornare a diventite. 15,0. Buona ricezione alla Giorgia. Buona insomma. L'ha presa. Ehm. Attenzione. La prendi anche questa. Prova. Prova a incrociare la Giorgia. Questa non va benissimo. Incrocia una parte. Bel dritto. La prende. Questa non è cito benissimo. Dove esce una parte. La Kiba si sveglia. Ma per fortuna. Manda in corridoio. Questo dritto. La Kiba. E le 15 pari. Punti davvero lunghi questi. La prende la Giorgia. Prova poi a giocarla. Attenzione. Ma non benissimo. Ha cercato una. Qua la Giorgia ha cercato una giocata parecchio difficile. Un po' azzardata. 30-15. Pieno servizio fuori. A parte la Kiba. Ma con la ricezione della nostra Giorgia. Buon dritto. Si apre il campo. E alla fine realizza appunto del 30 pari. Bene così. Bene così la nostra Giorgia. Bene così. Palla fuori. Piano servizio. Attenzione. La Giorgia. Buon incrocio. Questo non benissimo. Attenzione. La Kiba si fa aggressiva. Buona palla incrociata la Kiba. Ma la Giorgia è posizionata bene. E fuori. La manda fuori la Kiba. Il rovescio a due mani lungo linea. Va fuori. Palla set. Per la Giorgia. Incezione. Perfetta. Ancora Giorgia. Prova. E sbaglia ancora la Kiba. Molti errori della Kiba. Che perde. Perde la calma e rischia. E prova a spaccare la propria racchetta. Primo set. Meloni. Dobbiamo vedere i punti notari 12. Gli colpi servizi. Se non mi non danno i numeri degli errori che sarebbe molto importante per capire la situazione. Comunque. Secondo set. La Giorgia. Alla battuta. Come la Giorgia. Bene la riflessione ancora. Bravissima la Giorgia. Prova a difendersi la Kiba. Ma la Giorgia. Nostra Meloni. Per tirare questo gol. Allungandosi riesce a prendere la palla e realizzare il punto. A campo aperto. 15. 0. Ah questo è brutto. Tu la riga la Kiba. Prova la Giorgia. Far corre la sua avversaria. Alla corta. Croce all'altro lato. Ancora. Si fa aggressiva la Kiba. Ancora. E però non corre. Tutto decide. Che non vuole giocarsi più il brutto. Dice che è caldo. 15 pari. Palla sulla rete. Secondo servizio della. Della Giorgia. Trova. A forzare un po'. Ma sbaglia. 15-30. Fuori. Ancora. Ancora Giorgia. Prova. E per fortuna. Palla fuori dalla Kiba. 30 pari. Ancora. Non benissimo qui. Buon diritto. Cercare di aprirsi il campo. In difficoltà la Kiba. Non benissimo questa. Bella invece questa. Ancora. Buon. Ah. Recupero. Della Kiba. Che poi sbaglia il dritto. 40-30. Meno male. Bene così. Diciamo. Giorgia. Diciamo che. Per ora è avanti. Soprattutto per la sua maggior precisione. Ottimo rovescio da Giorgia. Anche il dritto all'altro lato. Si apre il campo. E realizza il punto. Dell'1-0. Questo secondo set. Bene così. Serve la Kiba. Buon riflessione della nostra Giorgia. Che prova. Che uno fa muovere la Kiba. Buon dritto questo. La Giorgia. Ottimo dritto. Ancora la Giorgia. Che palla che ha piazzato. Signori. Qua il replay mi sa che è da vedere. Guardate. Top spin. Riga precisa. Signori. Ed è 0-15. Buon eccezione la Giorgia. E poi il punto del 30-0. Ascolto. 30-0. Anzi 0-30. In questo momento è la Kiba che sta battendo. Arrete il primo servizio alla Kiba. Secondo servizio è dentro. Buona eccezione della Giorgia che poi fa un altro dritto dei suoi. E ancora questa va dentro ancora. Mamma mia che giocate che giocate attenzione. E poi il recupero della Kiba su questa palla non riesce signori. Palla fuori. 0-40. Tre palle sette. Per la nostra Giorgia. Rigezione non perfetta ma perlomeno la prende. Attenzione. Buon rovescio. Prova come prima a far muovere la sua avversaria. La Giorgia. Poi la labirintite. Poi la labirintite si dimentica per un attimo. Che sta giocando a tennis e lascia. Guarda la palla passare e non sa cosa farci. Ancora palla sette. E niente. La labirintite purtroppo colpisce la nostra Giorgia. Terza palla sette. 30-40. Primo servizio a rete. Quella abbiamo appena visto. Ottima. Direzione della nostra Giorgia. Benissimo ancora. Aggressiva la Giorgia. Benissimo realizza il punto del 2-0 signori. E adesso la Giorgia serve per il match. Ancora la Giorgia. Si fa aggressiva. Attenzione. Si fa aggressiva la Kiba. La 15. 0-15. Potente. Va a segno. Più almeno va. Dentro. 3-0 signori. In 3-0 signori. Ottimo rovescio la Giorgia. La Kiba sbaglia il suo. Lo manda in corridoio. Ed è 15 pari. Ancora errore della Kiba. Che ormai. Che sembra avere una tenuta mentale ormai persa. 30-15. Ottimo. Dritto. Prova. Con i suoi incroci la Giorgia. Ancora di là. Ottimo rovescio incrociare. Si apre il campo. E realizza il punto del 40-15 signori. 2 match point per la nostra Giorgia. 2 match point. Attenzione. Attenzione. Ottima giocata la Giorgia. E realizza il punto del 3-0 finale. 2-7-0. 3-0. 3-0. Questo. È l'esito. Di questo match. Fra la nostra Giorgia Meloni e Elena Kiba. Ripetisco Elena. Nome tipicamente giapponese. Bene così. Bene così signori. Assolutamente bene così. Primo turno di questo Dragon's Trophy. Vince il match. Intanto con Agnepore un punto. Addirittura. Due punti archetico. Stavolta. Slot tattica. Slot abilità. Vabbè. Qua si sblocca il mondo. Signori. Bene così. Nostra Giorgia. Fa il salto di livello. Signori. E adesso vedremo. 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 Perché il prossimo match. sarà contro Laura Brown. Australiana. Col mento quadrato. Detto questo. A questo punto direi. Molto semplicemente. Un saluto a tutti quanti voi. E alla prossima.